Beh, che dire, grande soddisfazione, è stata una battaglia durissima, una vittoria meritata, una vittoria di un gruppo che ha voluto costruirsi la cosina di battere i campioni d'Italia e nel momento in cui ha avuto l'occasione poi ha avuto la forza di prenderla. Non abbiamo tempo, è il momento di pensare e soprattutto di fare una chiamata alle armi, tra virgolette. Noi mercoledì abbiamo una partita importantissima, ci teniamo tantissimo a questa Coppa, è entrato nella testa di tutti, nella mentalità di tutti, abbiamo una grande battaglia contro i lituani e vogliamo fare un'altra grande partita. Mi spero di avere un palazzetto pieno anche per quello che hanno fatto oggi i ragazzi, per tutti insieme fare un'altra battaglia in casa nostra e continuare a sognare l'Europa.